Grazie a tutti. Sono contento del regalo che si sono fatti questi ragazzi perché io so realmente con quanta passione, quanta dedizione e quanta umiltà ogni giorno comunque lavorano anche dopo dei risultati che sono avvenuti in maniera negativa. E quindi questo sinceramente sono contento perché la squadra ha voluto andarsi a prendere questo momento di gloria perché è una squadra compatta, perché è una squadra che ha dimostrato che sa reagire e ripartire dalle difficoltà. Avevamo avuto dei segnali nella partita di Spezia, oggi per quanto riguarda alcuni tratti della gara abbiamo confermato quanto di buono fatto a Spezia. C'è da lavorare, però lavorare su un risultato positivo sicuramente è un po' più facile per tutti. Siete partiti molto forti trovando il gol dopo pochi minuti, poi la Ternana è riuscita a pareggiare. Secondo me la grande forza di oggi è stata, nonostante il pareggio della Ternana in una condizione magari psicologica non ottimale in virtù della classifica, reagire così a inizio del corno tempo. Ti chiedo che squadra hai trovato nell'intervallo? Nell'intervallo una squadra che chiaramente non stava attraversando 10-12 minuti positivi, ci siamo messi tranquilli con serenità, abbiamo detto come è accaduto un elemento negativo all'interno della gara che ci ha fatto abbassare così tanto. Io ho detto se andiamo in campo con decisione ci sarà un evento positivo che ci darà di nuovo il coraggio di attaccare. I ragazzi sono stati bravi perché il secondo tempo hanno subito rimesso la testa a fondo e hanno pedalato rialzando il baricentro e andando a giocare lì. Un po' più alti dove comunque noi con le nostre qualità potevamo mettere in difficoltà la Ternana, tanto è vero che il secondo gol è venuto ancora su azione. Comunque quindi su un'azione bella con l'inserimento del capitano da sinistra che ha ricrossato in mezzo e Davide Lupi ha chiuso un'azione molto importante. Quindi sono contento di come abbiamo gestito il finale del primo tempo e soprattutto il momento negli spogliatoi dove ci siamo rimessi a posto e abbiamo fatto un buon secondo tempo. Ti chiedo secondo la tua opinione da uomo navigato di questo sport a che punto è l'entella come rodaggio? Mi sembra rispetto agli altri anni che sia veramente una rosa coperta e completa in tante zone del campo. Oggi la Mantia in panchina, Crimi in panchina che potranno essere utili in infra settimana. Mi sembra una squadra coperta e tu puoi avere una buona abbondanza da far ruotare. Sì, questo anche ieri nella conferenza stampa ho detto l'importanza di avere una rosa competitiva perché prima di tutto ti aumenta la qualità negli allenamenti. La competizione fa sempre bene e poi un collega vostro ha detto è un problema, io ho detto no, è solamente una risorsa e già da martedì potremo avere i primi effetti. Quindi io sono soddisfatto della rosa che alleno, abbiamo tanti punti di forza e anche tante cose da migliorare, però dobbiamo solo proseguire su questa strada. Come ho detto prima, il risultato ci dà un po' più di fiducia. Mi porto avanti come ultima cosa, visto che tra tre giorni si gioca di nuovo un giro di giostra a Zeman-Landia. Come si gioca contro Zeman e che tipo di partita dovrete fare? Chiaramente difensiva è difficile contro un allenatore che ha del mantra offensivo e ovviamente il suo punto fermo. Noi certamente al di là di quello che poi ha detto il campo fino adesso non cerchiamo quasi mai di fare una partita difensiva anche se poi a Foggia è successo questo perché comunque abbiamo subito gli attacchi, diciamo la fase offensiva senza rischiare grandi cose. paradossalmente ha fatto molte più parate oggi il nostro portiere che a Foggia. Noi andremo lì per cercare di imporre quello che sappiamo fare, poi di certo loro non se lo consentiranno in maniera fluida e semplice, dovremo riadattarci, però sono convinto che se loro attaccheranno noi cercheremo di rispondere colpo su colpo. Grazie mister. Grazie a tutti.